Allora, loro sono prima di tutto dei grandissimi amici, dei grandissimi professionisti, sono quattro ballerini che ci proporranno questa sera due spettacoli. Uno spettacolo, il primo, quello che andrete a vedere adesso, è un Buhaloo, chi ha fatto lo stage prima ha potuto capire di che cosa stiamo parlando, dal nome Buhaloo Beat, un tributo a uno dei più grandi complessi esistiti mai al mondo, i Beatles, ok? Loro faranno questa esibizione in chiave latina di un brano dei Beatles, loro sono di Alaphia, adesso si esibiranno in questo Buhaloo, dopo li vedremo in una paccianga, mi raccomando, accogliamoli con un fortissimo applauso, direttamente, un applauso, applauso, Alaphia! Grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille. Grazie mille, 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 gra One way to get you And you took me so long To fight out Fight for love Yeah! Yeah! Shake it on baby now Yeah, oh, oh Oh my, oh my baby now Oh my, oh my, oh my, oh my Oh my, oh my, oh my Oh, you lose the love Oh, you know you can beat me for a king Just like I knew you would Shake it on baby now Yeah, oh my, oh my, oh my baby now Oh my, oh my, oh my baby now Oh my, oh my, oh my, oh my Oh my, oh my, oh my Oh my, oh my, oh my be Grazie. 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 Grazie.